Lo sfarzo e l'eleganza di alcuni dei saloni più belli del piano nobiliare di Palazzo Arezzo di Donna Fugata a Ragusa Ibla fanno la cornicio all'inaugurazione della mostra Le Tavole dei Gattopardi, dove protagoniste sono le eleganti e sfarzose tavole apparecchiate con preziosi servizi in ceramica dipinta, parte della collezione esclusiva di famiglia, insieme ad argenti oggetti ed abiti in esposizione. Attraverso questa mostra sarà possibile scoprire tre tavole diverse, una allestita con un servizio di 9 di Bassano della fine del Settecento meraviglioso, un servizio da 24, di questa ditta Antoni Bon che divenne famosissima e molto florida alla fine del Settecento grazie a dei privilegi che concesse la Repubblica di Venezia. Poi un servizio da consomme dei primi del Novecento più familiare se si vuole, allestito all'interno di una sala da pranzo dipinta in stile neogotico così come l'intero palazzo venne riallestito e ristrutturato all'inizio del Novecento. Infine un servizio da buffet in cui non ci sono piatti per mangiare ma solo piatti da portata o un contenitore di granite, delle alzate soltanto per dolci di marzapane. La tavola è intesa non soltanto come cibo, non soltanto come momento conviviale ma anche come momento caratterizzante un'antropologia dell'umanità siciliana perché nella tavola anche attraverso gli arredi, la posateria, l'argenteria, le ceramiche e le porcellane si ha quell'idea del fasto siciliano e del senso dell'accoglienza, della cura per l'ospite che credo che sia una caratteristica peculiare che contraddistinguono i siciliani. Il servizio Nove di Bassano, che è il servizio imponente della tavola più elegante, fu prestato nel 1937 quando Benito Mussolini fece la sua ultima visita siciliana. La prefettura di Ragusa chiese alla famiglia Donna Fugata in prestito questo servizio che ebbe poi una vicenda particolare che abbiamo voluto raccontare perché è caduto il fascismo nella foga e nella paura che tutto quello che in qualche modo fosse stato contaminato dalla mano del duce potesse essere distrutto, la famiglia forse in maniera poco coraggiosa decise di murare questo servizio e noi lo abbiamo smurato poco tempo fa per restituirlo alla fruizione di tutti. Il pubblico fa un'esperienza anche diversa, quindi pur non aggiungendo qualcosa di fisico ma qualcosa invece soltanto di visivo, è il filo conduttore di tutta l'esposizione.